Ciao a tutti amici e ben ritrovati da Jumpy, è arrivato il freddo, mannaggia quindi sono anche quasi semi raffreddato, un po' di mal di gola. Ma siamo nella settimana che porta al derby, finalmente questa tesissima partita si sta per avvicinare. Domenica è una partita importantissima, credo che questa volta rispetto ad altre volte sia anche più che un derby, perché sono tre punti importantissimi che possono rilanciare la squadra che vince e sicuramente la squadra che perde diciamo che può sprofondare. Tutte e due siamo messi più o meno simili perché siamo 15-14 punti e quindi domenica ci aspetta questa partita, speriamo che va bene, ovviamente ognuno tira l'acqua al proprio mulino, speriamo che la santo vinca. Ma detto questo, notizie di mercato, allora, la Samp è interessata a un giocatore di 21 anni, attaccante dello Spezia, che si chiama Okereke. Questo giocatore qui sembra molto molto interessante, la Samp era interessata già da tempo, ora si è messo di mezzo anche il Genoa, quindi è un derby fra Genoa e Samp anche per questo giocatore. Staremo a vedere dove andrà, comunque sembra veramente un giocatore molto molto interessante. Ma la Samp, che però vorrebbe regalare qualcosa a Giampaolo, sembra che potrebbe, la prima pedina che potrebbe regalargli è un certo Emmers, è un belga centrale del 99. Allora, ovviamente è giovanissimo, ma è un giocatore che anche di questo qui se ne parla un gran bene, Giampaolo lo conosce, lo voleva già, perché lo ritiene veramente un gran bel giocatore, quindi è proprio interessato, questo è un nome che fa Giampaolo, quindi la Samp sta pensando di regalarglielo a gennaio. Ma tutto dipenderà da Ianco, perché questo Emmers potrebbe prendere proprio il posto di Ianco, perché Ianco ha rilasciato, ha segnato in nazionale adesso che è andato un gollettino, diciamo, onestamente non era niente di che a porta vuota, tra virgolette porta vuota, però non era difficile. Ma le sue dichiarazioni sono che giocare mi fa bene perché alla Samp non gioco molto. Ora, caro il mio Ianco, è vero che tu non giochi molto, però le occasioni che ti vengono date non mi sembra che le stai proprio sfruttando, non dico al massimo, ma neanche al meglio, secondo me, perché onestamente, io da te, onestamente, ma credo che la maggior parte dei tifosi da te si aspetti molto, ma molto di più. Quindi sicuramente sei un giocatore che ero contento del tuo arrivo, mi piace molto come giocatore, Ianco, devo dire la verità, ma onestamente non sta dimostrando veramente poco. Giampaolo, noi vediamo le partite, Giampaolo vede anche gli allenamenti, e quindi mi fido del mister e se dice così, perché effettivamente è quello che è dimostrato in campo, devo dare ragione al mister. E quindi tutto dipenderà da Ianco. Quale occasione meglio del derby per mettersi in mostra? Se ovviamente giocherà. Io adesso, non essendoci Barretto, bisognerà vedere, però sicuramente è una grandissima occasione per lui, nel caso dovesse giocare. Nel caso dovesse giocare. Però appunto, se lui da qui a Natale non farà vedere qualcosa di più, è probabile che ci sia già un sostituto che si chiama Emers, che è più giovane appunto, ma Giampaolo sembra innamorato di questo giocatore, quindi... Poi, sempre Giampaolo però, parlando di Ferrari, che non ha giocato un minuto, non ha giocato un minuto, viene praticamente bocciato da Giampaolo. Ora, onestamente mi dispiace per questo Ferrari, perché sia bocciato. Però ripeto, io non posso giudicarlo perché non l'ho visto come tutti voi, non l'abbiamo visto in partita. Però diciamo che Giampaolo lo vede in allenamento e ora diciamo che questo Ferrari davanti in difesa ha gente come Andersen, Colle e Tonelli. Sicuramente è difficile mettersi in mostra con gente davanti così. Quindi lui potrebbe essere che a gennaio, potrebbe essere, visto che adesso è ritornato anche a Regini, potrebbe essere veramente dato in prestito o addirittura ceduto. Niente, detto questo, cosa dire? Io mi aspetto che veramente anche Pratt, io Pratt lo ritengo un giocatore di un'intelligenza sopra la media, non voglio esagerare, ma diciamo sopra la media. Però è un giocatore che deve ancora far vedere realmente il suo valore. Quindi io mi aspetto che dal derby, e non nel derby, ma dal derby, veramente Pratt tiri fuori tutti gli attributi che ha e li mette in campo. E da lì in poi spero che possa essere un cambio di rotta, perché questo è un giocatore che a me piace tantissimo, secondo me, ripeto, ha un'intelligenza calcistica che è sopra la media, quindi mi aspetto veramente molto molto di più di lui. E poi staremmo a vedere questa difesa, che onestamente, l'ho detto io, secondo me il vero problema non sono i centrali, ma sono i terzini, perché Murru è molto migliorato dall'anno scorso, ma ogni tanto cade qualcosa. In queste ultime due o tre giornate non è riuscito a tenere Suso, non è riuscito... Sicuramente ha dei limiti che onestamente gli ha smorzati rispetto all'anno scorso, però alcuni sono ancora evidenti. Niente, poi Ibo, io non so, questo mistero Tavares continua a essere un mistero, sembrerebbe, onestamente, non ne hanno parlato, ma sembrerebbe, secondo me, bocciato anche lui da Giampaolo, perché comunque, io non lo so, c'è gli allenamenti? No, lo so che c'è gli allenamenti, sto scherzando, perché lo vedo anche in panchina durante le partite, però non vede il campo, mistero. Niente, detto questo, forza Samp, mamma mia, l'attesa cresce, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, ciao a tutti e al vostro Jumpy.